buonasera e ci siamo di nuovo ci siamo di nuovo non manchiamo mai buonasera facile non è mai facile entrare in live con giovanni che ti inizia a dire sta finendo da due minuti prima poi con la rovescia deve dire questa cosa che non è vera non è vera si capisce mai niente ha messo anche gli occhiali per vedere meglio il countdown questa sera abbiamo con noi jeff goldblum ciao aspetta devo stare con le mani così e buonasera buonasera marco buonasera mauro buonasera buonasera jeff buonasera buonasera e niente siamo derivati alla ventordicesima credo puntata di opinioni pericolose io ho perso il conto marco il conto solo di quelle che ha vinto perché lui disegna quelle che vince quindi non sono tutte credo di più io faccio uno sgarro sul muro del salotto ogni volta i carcerati grosso così e niente siamo arrivati alla nuova puntata e io subito vorrei ringraziare come al solito tutti tutto l'affetto di cui voi ci inondate come se foste un po non lo so degli mecenati allora questa sera novità cioè novità perché non perché novità comunque non avremo un ospite noto nella prima puntata ma avremo ben due utenti cioè nella prima parte un utente uno di voi che ha scritto alla mele vi ricordo che l'unica mail ufficiale per scrivere opinioni pericolose chiocciola gmail.com la leggo io leggo proprio e giacomo la leggiamo io e giacomo e se l'idea ci piace vi rispondiamo poi ci sentiamo capiamo per capire se poi questa roba è sostenibile qui in puntata quindi questa sera due utenti avremo prima anna paola e dopo igor detto questo ragazzi l'ospite è una cosa eccezionale qui opinioni pericolose perché noi abbiamo detto quando siamo ci siamo lanciati su twitch abbiamo detto facciamo una serie con un po di ospiti per dare un po il via però non è che mo potete avere sempre gli ospiti anche perché a una certa finiscono quindi giochiamoceli bene soprattutto perché gli utenti secondo me danno sempre qualcosa in più andiamo avanti giovanni e già ubriaco ragazzi e quindi io direi che possiamo dare il segnale a giacomo peraltro giacomo chiedono in chat chi è giacomo giacomo appalesati in chat fatti salutare scriviti giacomo in questo momento dei nostri grandi moderatori che sono in tre tra cui abbiamo anche valerio e scusate no daniele no valerio giacomo lorenzo e daniele giacomo ringraziamo perché senza di loro la chat sarebbe un dei video e avremmo tutta gente dice cose a caso quindi arrivando l'ospite ho mandato il segnale sta per arrivare anna paola o ragazzi questa sera preparatevi perché le opinioni pericolose che abbiamo messo insieme questa sera le opinioni pericolose quando abbiamo detto giovanni e questa sera vorremmo fare queste domini pericolose no lascia lui ha continuato di comprarsi questi occhiali ecco per farvi capire vi faccio una vi chiedo per favore se tutti quanti voi che siete in chat potete spammare è una paura 8 spammate 118 in chat perché è il numero che andrà chiamato quando giovanni sentirà queste prime pericolose quindi vorrei che tutti scriveste 118 in chat la colpa tu anna paola intanto benvenuta benvenuta anna paola ciao buonasera a anna anna paola ma ti possiamo chiamare anche anna per brevità o no ct e paola anna va benissimo ok quindi paola non è bene ma anche paola come volete effettivamente paolo a paola è un nome più brutto ma questa è un'altra opinione pericolosa marco già è partito il 118 qua a stecca ancora non ha detto niente non appena dice quello che ha da dire qua chiamano pure pompieri cioè adesso dopo 118 scrivete maledetti io ci tengo a dire una cosa prima che cominciamo questa l'opinione che state per sentire è pericolosa ma perché ragazzi il format si chiama opinioni pericolose perché youtube la gente che commenta scrive vabbè ma sto opinione mi fa schifo grazie sennò chiamano opinioni che tutti condividono era un format in cui una veniva dice la sua cosa se ne andava ed era finito il format ma io devo scaldare il dito e quindi mentre scaldo il dito lascio la parola no aspetta prima anna paola pronto ho chiesto niente da dove di dove sei da dove ci parli che fai nella vita allora vengo da molfetta in provincia di bari la molfetta sì e faccio l'ultimo anno di liceo cnotico tra poco mi toccano gli età di ragazzi deja vu perché anche marina faceva io e marina siamo amiche quindi ma questa tira fuori in altro film polacco madonna marina si vede i polacchi lei quelli rumeni fanno così se li dividono come la conosci da adesso racconta ma quindi raccomandata no no io non l'ho detto che la conoscevo ma comunque la conosco e in realtà è lei che mi ha fatto conoscere in canale quindi grazie marina quindi sappiamo di minacciare vabbè perché marina guarda solo cose di classe c'è un film polacchio noi non è che c'ha il film polacco di marina è proprio bene ma noi giochiamo noi giochiamo ovviamente dobbiamo scherzare io l'altra sera lo sono andato a cercare su sky l'ho trovato l'ho registrato appena ha finito il download l'ho cancellato giusto però però ce l'ho lo scaricato marina ti vogliamo bene in realtà ma quindi detto questo anna paola è il tuo momento respira fai un respiro profondo e dici la tua opinione pericolosa non dire niente giovanni no io devo accendere all'opinione capito ogni volta aspetta pagliela dire prima vai allora la mia opinione pericolosa e che il finale di seven david fincher non sia in realtà un bel colpo di scena ma sia un colpo di scena mediocre io io non lo so c'è ma io non lo so ma per forza che amica di marina c'è per forza io non c'è ma voi vi riunite nella sera c'è tipo intorno a un tavolo con questi cappucci tutte cattive malvagie cercate di pensare alle cose più brutte da dire c'è prima c'era il pigiama party ma c'è la stronzata party io non lo so ma io ci tengo subito a dire perché lasciato ovviamente esplosa ragazzi se noi poi decidiamo di parlarne perché abbiamo capito che se ne potrà se ne può parlare e poi adesso rimarrete stupiti di questa raggiungo anche nel format è nostro quindi non rompete il cazzo infatti siamo e non rompete il cazzo siamo convinti che anna paola a delle buone argomentazioni per dire questa cosa e siamo curiosi io in prima sono curiosissimo di sentire quello che ha da dire ragazzi assolutamente erano mega spoiler per il finale di seven quindi vabbè sì se parla del finale dei 7 vabbè in film del 95 però che addirittura scrivono che la prossima amica che verrà del gruppo di marina anna paola dirà che il padrino è una trilogia sopravvalutata e poi io sparo ma i fratelli i fratelli lumietti se potevano fai cazzi va bene allora facciamo le squadre io metterei siccome comunque è un'opinione veramente pericolosa ci vuole una difesa altrettanto preparata io voglio mettere marco cioni in squadra con anna perché so che marco cioni è pronto so che marco cioni è carico per per l'impegno e quindi dall'altra parte e all'accusa abbiamo jeff goldblum e mauro zingarelli il grande derby foggia molfetta io oggi all'inizio mi avrete visto un po distratto era il telefono mi giravo intorno perché io non ho mai mai nella mia vita fatto un selfie con nessuno nella mia storia io c'ho un unico selfie da qualche parte in qualche disco con david fincher e l'unica cosa mi sono mai fatto nella mia vita quindi io sono proprio avvenuto oggi anna paola no ma guarda io ce l'ho con enzo miccio ci tengo a dirlo io voglio sentire david fincher scusate c'è un canale che si chiama enzo miccio coi capelli vabbè adesso basta vai anna mauro è un infame ti mette in difficoltà da subito vai va bene allora innanzitutto io ci tengo a dire che la mia opinione non è incentrata sulla bellezza del finale di seven in sé perché la ritengo una cosa abbastanza soggettiva nel senso ovviamente come tutto può piacere e non piacere quello su cui già vai il dito già vai no no già vabbè non interrompete quello che io andrò di cui io andrò a discutere è il plot twist di seven ovvero in particolare il fatto che generalmente quando si parla di film con colpi di scena strabilianti geniali intelligenti seven è sempre uno dei più citati e lo vediamo anche al fianco di film veramente importanti della storia del cinema e io la ritengo una fama per questo motivo ingiustificata e adesso diciamo proverò a spiegarvi il perché secondo me un plot twist per essere efficace deve avere una caratteristica fondamentale ovvero deve riuscire a scardinare delle certezze acquisite precedentemente dallo spettatore durante la parte precedente dal film e andare a colmare questa caduta di certezze con delle nuove informazioni che devono essere inaspettate e intelligenti geniali appunto devono colpire devono rimanere nella testa dello spettatore facciamo subito degli esempi un plot twist che io reputo meraviglioso davvero credo in più bello che io abbia mai visto sullo schermo e in finale dei soliti sospetti in finale dei soliti sospetti per me è incredibile perché in pochissimi minuti riesce a far crollare praticamente tutto ciò di cui noi spettatori eravamo pienamente convinti quindi l'identità Keaton Kaiser Sose il fatto che Verbal Kind avesse la sua propria identità e che tra l'altro avesse delle caratteristiche molto marcate a livello di personaggio quindi che fosse un po' in cretinetto della situazione e in pochissimo tempo riesce praticamente a farci capire che tutto ciò che noi abbiamo visto in realtà è falso perché siamo stati presi in giro e in realtà Keaton non è Kaiser Sose ma Kaiser Sose è Verbal Kind facciamo un altro esempio andiamo su un altro bellissimo finale che secondo me è The Prestige di Christopher Nolan ah ma tu vuoi rovinare tutti? ti firmo a tutti ragazzi stasera ragazzi mega spoiler ma sti cazzi se non avete visto qualsiasi thriller della storia no la cosa bella è che se non avete visto qualsiasi bel thriller della storia esatto vai The Prestige vai avanti allora The Prestige agisce comunque in un modo diverso ma in concetto è sostanzialmente quengo in finale di The Prestige ci dice che in tantissime scene in cui noi eravamo convinti di aver visto il protagonista ovvero Alfred Borden interpretato da Christian Bale in realtà noi non vedevamo in scena Alfred Borden ma vedevamo il suo frattengo gemello che tra l'altro c'era stato presentato sotto mentite spoglie durante tutto il film perché il personaggio del gemello di Alfred Borden è in realtà Bernard Fennon che noi avevamo conosciuto tutto truccato con una diciamo impostazione visiva sostanzialmente fittizia quindi crolla la certezza del fatto che noi sostanzialmente abbiamo visto il protagonista nella metà delle scene del film e ci viene sostituita con un'altra informazione cioè che in realtà non era lui ma era il gemello o ancora raggiungiamo un altro livello di demolizione di certezze ancora superiore se parliamo di film come Shutter Island oppure di Old Boy dove la certezza che ti viene scardeggata vai vai mi dispiace oil era tutto vai è infatto sostanzialmente che noi ci eravamo fidati di un protagonista la nostra conoscenza del mondo in cui si ambienta il film era stata affidata a un personaggio di cui ovviamente ci eravamo fidati perché esiste comunque un patto implicito che nega spettatore e personaggio del film e poi a un certo punto scopriamo che una persona a cui siamo stati affidati è sostanzialmente un pazzo che ha una visione della realtà completamente distorta e tutto ciò che i suoi occhi ci avevano fatto vedere durante la prima parte del film è del tutto sbagliata cronda questa certezza e ce ne vengono restituite delle altre scusate mi ho letto in chat da Anna Paola Anna spoiler è un attimo no no a parte questo il commento più bello secondo me il vero plot twist di questa serie è che adesso lei si leva la maschera ed è Marina Marco Falcone l'ha scritto Marco Falcone ma non interrompiamo però scusate vai Anna intanto utilisco per te Adriano che normalmente non vedi nessun film e poi questi li ho visti tutti vai vai zitto zitto Mauro ok allora dicevo quello che io fondamentalmente non riesco a capire è dove questo meccanismo si verifichi in Seven e il bello è che io ho provato a dargli delle risposte individuando diversi punti del film o quantomeno della parte finale del film che potrebbero essere reputati dei bei plot twist allora primo primo il fatto che noi scopriamo e vabbè ho capito sta finendo l'apri il primo concetto facciamo a raccontare zitti a tramite gli ultimi dieci anni di thriller facciamoci ci vuole tempo Anna tu devi parlare di sopra silenzio silenzio nessuna certezza mi viene dissolta mi viene frantumata perché io sostanzialmente sapevo già da mezz'ora prima che esisteva un tale che si chiamava John Doe che aveva commesso tutti questi assassini quindi quello che succede è che lui arriva e dice piacere bellissimo piacere anche per me però niente di che secondo papabile plot twist il fatto che durante diciamo l'ultimo momento quindi quando ci sono in quella parte deserta Somerset, Minx e John Doe avviene un omicidio perché appunto John Doe viene ucciso ma è davvero un plot twist così assurdo? a mio parere no perché sostanzialmente in tutto il tragitto della macchina tra il commissariato e il punto in cui arrivano John Doe non fa altro che dire andremo a vedere in compimento della mia opera compimento della mia opera uguale omicidi sono due persone armate che si dirigono in un punto a vedere in compimento di un'opera di omicidi che cosa mai potrà succedere? un omicidio cioè non è niente di che non è niente di sorprendente arriviamo ad un ultimo possibile plot twist di Seven tu lo sai che dopo è un altro turno giusto? eh quello è il problema cioè ce la siamo giocata in una botta sola il prossimo turno si fa tutti quelli dagli anni 60 agli anni 80 esatto andiamo avanti finisci così poi andiamo avanti andiamo la parola alla difesa all'accusa concludo subito infatti quindi un altro possibile bel plot twist è il fatto che Minz trova nella scatola di cartone la testa della moglie adesso va bene io ci sto è uno sviluppo inaspettato della trama ma basta questo per rendere un plot twist intelligente e geniale a mio parere no per un semplice motivo sarebbe bastato che il personaggio della moglie di Minz fosse stato caratterizzato con giustizia durante tutto il film in maniera tale che io mi sarei affezionata al personaggio e ci sarei rimasta male a vederlo sostanzialmente morto e io ti stoppo qua e io ti stoppo qua tieniti esatto adesso io penso io sono io non dico niente ma chi chi di voi ha le mani mauro posso così se io dico cagate tu salvi la situazione ti spiace io devo riprendermi intanto vado a allora io volevo adesso io mi piglio 10 minuti allora vai Jeff intanto sono veramente contento che Anna Paola torna quindi non so se Anna Paola che ha il mio audio non torna ragazzi perché io delle cuffie sono fuori cioè generale è stato un momento è stato un momento è stato un momento ripeto volevo dire intanto sono contentissimo che Anna Paola abbia visto tutti questi film li abbia analizzati in maniera così diciamo anche perché adesso tutti gli altri non li devono più vedere andandoli a spulciare vi ha evitato di andarli a vedere tutti e le sue argomentazioni effettivamente se ci pensi sono molto interessanti il problema è principalmente che quello di Seven alla fine è un finale con un colpo di scena di un certo tipo non è esattamente un plot twist cioè la trama non cambia loro stavano andando a vedere l'ultimo omicidio ad assistere all'ultimo omicidio e come avviene l'ultimo omicidio che è il vero colpo di scena perché tu non è che non sai chi è l'omicida tu sai che c'è un omicida che loro chiamano John Do perché negli Stati Uniti vengono chiamati John Do le persone che non hanno un nome non si sa come si chiamano queste persone in America per dargli un nome gli sconosciuti diciamo gli sconosciuti per giusto è come dire Pinco Pallino è come dire Pinco Pallino chiamano John Do quindi lui si chiama John Do per questo perché è un uomo che non ha né impronte digitali che vediamo nei titoli di testa che se le raschia via né nome né niente è una persona totalmente sconosciuta il fatto che si presenti alla fine lui da solo è quello il primo colpo di scena che lascia spiazzato perché tu né in un film del genere né per la storia come stava andando avanti te lo aspetti la fine che poi esamineremo più avanti è il vero colpo di scena ma ti ripeto non è un plot twist non cambia la trama tu non stai a un certo punto scoprendo che l'omicida in realtà è un altro e qual è l'omicidio dove va a finire questa cosa fra l'altro Seven è un film spettacolare del 1995 dove per tutto il film non viene caratterizzata la città è solo il male incarna l'inferno Seven dove piove sempre non fa altro che piovere percepisci la puzza da per tutto è Milano prima della puzza più o meno non vedi un omicidio tu lui in azione uccidere non lo vedi mai vedi solo l'atto compiuto vedi la morte nel suo terrore più vero scusate scusate aspetta mi dissocio da quello che ho detto prima si può fare questa cosa fammi finire Marco tanto ormai io penso di mettere una maglietta proprio con scritto mi dissocio dico cazzo peraltro poi dobbiamo dire della maglietta lo diciamo dopo è questo che racconta racconta l'inferno il finale invece è l'unico giorno di sole è l'unico giorno dove c'è una possibilità di vedere una rinascita di vedere però entrambele del finale sto parlando del finale e io non se sparamo tutte i cartucce subito se sparamo non ho finito e ho capito ma mi stai a parlare la pioggia sto parlando ragazzo analizzando il film sto parlando del film per arrivare anche al finale sto parlando del film per arrivare al finale allora dai arriva al finale adesso mi hai interrotto però ho perso il filo mortacci vostra vado io allora tanto voglio dire che la cosa più il finale di Seven su YouTube credo sia il video di unboxing più interessante della storia di YouTube questo è un commento che ho letto oggi rivedendo il finale mi ha fatto molto ridere detto questo bello bravo faccio il dito verso chi ha scritto il commento detto questo non stiamo qui a dire che Seven sia un brutto film stiamo qui a dire che il finale il colpo ci stava arrivando se non mi interrompevate io ci stava arrivando se non mi interrompevate ma tu parli troppo devi sapere no perché lei ha parlato due minuti ma no hai iniziato a uccidere i dinosauri basta andate avanti non ti curare di loro andate avanti mi giro vi do le spalle vi do le spalle non uccideva i dinosauri no allora il colpo di scena stiamo discutendo del fatto che il colpo di scena che tutti hanno reputato non so per quale motivo così devastante in realtà è abbastanza irrilevante ai fini del film la prima cosa che dico io è che il finale stesso del film che non è il colpo di scena perché dopo il film c'è un epilogo in cui c'è un voi soverino del grande Mauro poi io lo dici tu del grande Morgan Freeman che aggiunge questa cosa è una pseudo citazione di Hemingway e quindi praticamente quello che fa è riportare il finale crudo e duro e super cinico della morte di Kevin Spacey da parte di ucciso da Brad Pitt su una roba tipo vabbè ma alla fine volemose bene perché comunque dai e questo finale Adriano Santucci non so se tu lo sai Fincher ha combattuto fino alla fine per non averlo perché lui voleva che il film finisse con con Miller che uccideva Kevin Spacey con Brad Pitt che uccideva Kevin Spacey invece la produzione che non si è accollata di finire sui toni scuri ha detto no dobbiamo aggiungere un finale che comunque dà della speranza e secondo me è questo il primo punto che rende quel colpo di scena molto meno potente di quanto avrebbe potuto essere prima cosa seconda cosa a chi piace Gwyneth Paltrow a nessuno piace Gwyneth Paltrow a Chris Martin io a Chris Martin a nessuno ci sono lasciati manco a lui a Chris Martin mi era piaciuta mi era piaciuta ma poi si è messa però a vendere gli operatori fatti d'oro placato lei vende le candele alza ragazzi state attenti a dove state andando a nessuno piace Gwyneth Paltrow a me si inventa un'altra cosa ragazzi adesso ve la trovo vai vai lo leggo ieri vai tu adriano comunque oggi sei distratto non mi piace questa cosa devi stare sull'opinione pericolosa eh vi sto cercando sto sentendo riesca a fare due cose insieme allora a nessuno piace Gwyneth Paltrow e soprattutto a nessuno piace il personaggio che interpreta Gwyneth Paltrow nel film perché è una lagnosa rompipalle che è l'unica sì è fastidiosa come un Teletubbies in una punta in un Batman di Nolan cioè è inutile è inutile nel senso che sta lì è mega carina è l'unica in questa città che dovrebbe essere positiva però poi quello quando io ho visto il film ho pensato vabbè è morta ma anche chi se ne frega cioè nel senso non è che io ero così affezionata a questo personaggio per cui alla fine la sua morte mi ha sconvolto ho detto vabbè dai quello è un assassino ha ammazzato sette persone ha fatto pure questa roba avanti così quindi secondo me il problema di questo colpo di cena sono il finale infilato dalla produzione a forza per fare un film buonista alla fine e il fatto che il personaggio di Gwyneth Paltrow non se lo incula nessuno tutti gli sta sulle palle e quindi poi se muore o non muore a me non cambia nulla e a Brad Pitt si è sforzato per Osiga perché non è che secondo me a lui interessasse più di tanto Mauro te lo dico perché Gwyneth Paltrow al momento aspetta chi? con Brad Pitt davvero? stavano uscivano insieme erano fidanzati interaggiamo nel film no dico Mauro perché qua è partita che opinione non se ne può parlare ma che è ma non è opinioni sono strozzate ma qua per adesso la difesa vi sta sbragando completamente e certo se non ci fate parlare mannaggia la puttana Giovanni stai tranquillo perché la questione è molto semplice a loro servono tante parole per imbastire una enorme stronzata che devono dire a noi ne bastano poche quindi non ti preoccupare tocca a me allora vai va bene dato che oggi siamo in vena di spoiler spoiler alla fine di questo discorso le cose che avete detto non avranno più nessun senso ok così ci arriviamo in anticipo allora saresti credibile se non avessi quel ciuffo guarda no mi piace adesso ma ma indietro in avanti comunque questi tuoi attacchi ad personam dimostrano la tua pochezza detto ciò allora partiamo dal presupposto che plot twist e plot twist ci sono plot twist e plot twist M. Night Shyamalayan il nostro amico con il nome in provincia esatto ci ha insegnato che fare un plot twist non è difficile non è una cosa complicata basta che tutto il tempo punti il dito da quel lato e l'ultimo momento fai e invece lo puntavo da quell'altro lato non è complesso basta semplicemente dire tutto il tempo una cosa e poi ne dici un'altra il punto non è quello il punto è rendere il plot twist tematicamente connesso alla storia che stai raccontando e tutti i film che hai citato fanno un ottimo lavoro nel fare questo ma lo fanno in un tipo di film che fa del plot twist il grande giro dal punto di vista di trama ok a quel punto improvvisamente la trama cambia tutto ciò che pensavi di aver capito di quel personaggio invece di un altro personaggio sta lì ok il punto è lì chi è l'assassino chi è la chi ha ammazzato questa gente chi come fa quel mago a scomparire e siamo d'accordo ma quello che Seven si chiede non è quello come abbiamo come abbiamo visto a un certo punto il punto di Seven è proprio che non fa mistero del proprio assassino infatti quello che tu usciti lui arriva lì e si rivela e non è sconvolgente perché non sappiamo neanche il suo nome ciò che è sconvolgente che non gliene frega niente è quello il punto ciò che è il plot twist ma se lui allora è qui qual è il suo piano qual è il punto di questo film qual è il tema di Seven e il tema di Seven è essenzialmente che cosa possiamo fare in un mondo fatto di esseri umani che non sono che fanno altro che fare cose orribili su cose orribili su cose orribili è quello il punto cioè come possiamo risolvere questo problema e il plot twist è che non possiamo il plot twist è che siamo invorticati in questo loop infinito che da cui non possiamo uscire e per quanto Marco voglia dire che il finale è più leggero sì sicuramente il finale è più leggero di quello visto inizialmente ovvero semplicemente che Somerset a un certo punto dice vabbè a rega bella così chi lo sa ma quella è solo un'aggiunta è solo un'aggiunta per dire Somerset poi effettivamente è andato in questa direzione ma quella quella trama quella linea era già stata settata fin dall'inizio e tutto il discorso che lui fa tra l'altro ragazzi questa cosa che avete detto che di Queen & Patro non ce ne frega niente perché non ce ne deve fregare niente di Queen & Patro ce ne deve fregare di Brad Pitt è quello il punto lei in quel caso serve semplicemente a fare da contraltare alla storia di Brad Pitt che ha la stessa storia di Somerset ma è semplicemente più ingenuo è quello il punto il punto è distruggere l'ingenuità di Brad Pitt una persona che è convinta che il mondo sia un bel posto e invece il colpo di scena è che non lo è e poi quella roba tu Marco adesso mi devi spiegare in che modo è un finale buonista il fatto che il mondo fa schifo però abbiamo solo questo quindi tanto vale o si ammazzamo dato che non ci possiamo ammazzare semplicemente ce lo teniamo così cos'è così com'è e continuiamo a cercare di buttare fuori assecchiate da questa nave che sta affondando tutta l'acqua che sta entrando anche se fisicamente non possiamo mi hanno appena dimostrato che non è possibile però che dobbiamo fare se dobbiamo sparare in testa è la sofferenza dell'esistenza è l'inferno questo girone dantesco perverso nel quale siamo costretti a essere schiavi dei nostri stessi problemi cioè è una roba pazzesca ragazzi non deve necessariamente essere invece l'assassino era Brad Pitt che palle cioè nel senso veramente non li avete visti di Shyamalan che ultimamente semplicemente è invece per tutto il tempo era dentro un sogno e lui stava dormendo e Brad Pitt era Bruno invece di essere biondo chi se ne frega cioè ho capito però quasi parla non esiste solo quel non esiste solo quel colpo di scena non è dal punto di vista ragazzi guardate che fico il fatto che questo personaggio non era questo personaggio ma era un altro personaggio il concetto è guardate come voi credevate che stessimo andando verso una risoluzione che era effettivamente quella che ci aspettavamo quella logica esatto ovvero non solo anche l'evoluzione del personaggio ovvero di Somerset che impara ad essere una persona migliore grazie al fatto che Green gli dice guarda io lo so che non è bello crescere un figlio in una città del genere però dobbiamo farlo perché sennò vivi una vita di rimpianti come stai facendo stiamo andando verso un finale che effettivamente ci fa credere che avrà ragione Morgan Freeman a dire forse sì forse devo redeemermi forse vale la pena combattere per questo mondo e il plot twist è che no non vale la pena che tutti sono corruttibili ed è una cosa il personaggio di Brad Pitt si chiama Mills non so non so che film hai visto Somerset è il personaggio di di Morgan Freeman esatto Marco Cioni io parlavo di Somerset e allora partiamo col secondo giro Anna hai preso un po' di appunti e vai cortesemente non ci spoilerare l'altra metà della cinematografia mondiale che ci siamo versi finora guarda da parte mia io tanto li ho visti tutti cioè dico per le persone hanno il sesto senso esatto esatto Star Wars no non lo cito il sesto senso no è neanche Star Wars no 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 vai vai è il treno l'arrivo in stazione dei fratelli Lumière che non ricordo se alla fine il treno arrivava effettivamente o no zitti Mauro fai parlare allora innanzitutto io vorrei rivolgermi a Giovanni e proprio dirgli una sola cosa allora tu stesso hai detto è un plot twist che non basta a volgere la trama ma se noi andiamo a cercare su Wikipedia plot twist io l'ho fatto prima di allora un altro Marco Shaw lo immagino lo immagino il mondo ti basa sulle definizioni ragazzi è vero ma senza dubbio vabbè vai avanti parliamo scusa non ti vorrei interrompere vai 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 allora twist è uno sconvolgimento della trama è una svolta narrativa quindi c'è già tesoro ma quello che tu chiami plot twist non lo è è quello il problema Marco io devo dire stai zitto Giovanni non interrompi hai ragione scusa vai 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 scusa Anna Paola ti rispondo dopo scusami ok di meno dopo ci vediamo fuori ok va bene questa prima cosa invece quanto al discorso di Mauro io capisco il ragionamento va bene il problema è che per me cioè scusatemi ma non è un plot twist il fatto che noi alla fine scopriamo che il mondo fa schifo cioè volete dirmi che questo è un plot twist e l'abbiamo scoperto sulle basi dell'esperienza di un assassino ma cosa ci aspettavamo che un assassino fosse una brava persona personalmente me lo aspettavo che fosse una persona un po' di schifo quindi non mi hanno detto niente di nuovo seconda cosa io concordo in toto con tutto ciò che ha detto Marco veramente erano tutte cose che avrei detto dopo quindi davvero concordo in pieno e vorrei soffermarmi sulla frase finale la citazione di Hemingway allora innanzitutto è una citazione che comunque in realtà non va a sostenere in concetto il mondo fa schifo perché comunque la citazione è proprio questo allora il mondo non è un ben posto però vale la pena lottare per esso quindi comunque si posiziona come diceva Marco in una maniera secondo me un po' buonista che non va proprio a dare una una svolta radicale al film a mio parere poi recitiamo i soliti sospetti anche i soliti sospetti finisce con una frase ad effetto io adoro quella frase la beffa più grande che il diavolo ha fatto è stata per credere a tutti che lui non esista e come niente sparisce meravigliosa ed è ancora più meravigliosa perché va a sottolineare in plot twist cioè la beffa più grande che il diavolo ha fatto la beffa l'ha fatta a me l'ha fatta allo spettatore che credevo che Verbankint fosse un innocuo storpio e invece è una mente è un criminale quella è una frase che va a sottolineare un finale ad effetto non quella di la citazione di Hemingway che non fa altro che distogliere l'attenzione da quello che abbiamo visto prima in realtà poi mi ricollego di nuovo a quello che ha detto Mauro ovvero al fatto che non tutti plot twist si basano su le stesse dinamiche quindi sostanzialmente su un tema del doppio perché alla fine bene o male siamo sempre lì d'accordissimo allora andiamo a citare altri film innanzitutto mi sembra di capire che a te piace tantissimo Edward Norton piace tantissimo anche a me e infatti siccome non citerò Fight Club ma citerò la sua prima apparizione cinematografica in assoluto un film che si chiama Schegge di paura non so se voi l'avete visto spero di sì perché è bellissimo quello non gioca sul tema del doppio non scopri che quello che credevi essere una persona in realtà era un'altra alla fine di Schegge di paura riassumo nel caso qualcuno non l'abbia visto si scopre che sostanzialmente Ray nel caso qualcuno non l'abbia visto ve lo dico io così è inutile ve lo dico io così evitiamo lo sforzo si va a scoprire sostanzialmente che quello che la persona ha il protagonista che noi avevamo creduto un malato di mente alla fine non solo non lo è ma ha architettato tutto per prendersi gioco dell'avvocato interpretato da Richard Gere è una un tipo di trama che in realtà si distacca completamente da quelli che abbiamo citato che quelli che io ho citato in precedenza eppure io lo reputo un bel plot twist perché perché va a distruggermi delle certezze che io avevo acquisito durante la prima parte del film prima del plot twist io lì ci sono rimasto proprio tipo oh ma che cazzo è successo Giovanni ti prego di calmarti questa sera sei troppo agitato ho capito devi dare una calmata se no già state in netto svantaggio ve lo dico io questa sera faccio votare il pubblico deciderai il pubblico fallo votare fallo votare assolutamente perché io la chat la leggo Giovanni togliti gli occhiali se no ti agitano rilassa prego quindi chiudi velocemente così diamo la parola a Giovanni e ne citiamo un altro completamente diverso il plot twist a metà di Parasite quando si scopre no non l'ho visto no è troppo recente è troppo recente Parasite è troppo recente non te lo accettiamo no no dai va bene allora non te la esplicità per chi l'ha visto quello anche non ha niente a che vedere con tutte le dinamiche che ho diciamo sparato prima il plot twist è il nuovo film di Nolan mantenere quello che deve uscire a luglio adesso il prossimo adesso ve lo dico insomma è una dinamica completamente diversa ed efficace quindi non si tratta di dinamiche che si ripetono si tratta di qualcosa che non mi dice niente di nuovo rispetto a ciò che ho già visto solo questo vai Giovanni è il tuo momento mi raccomando però con garbo sì certo ma io continuo a dire il problema vero in questa cosa non è che Anna Paola ci ha torto è che Anna Paola continua a cercare in Seven una cosa che non c'è cioè lei continua a cercare questo plot twist che Seven non ha cioè continua a parlare di una cosa e poi cita un casino di film con i plot twist che alcuni sono veri plot twist altri un po' meno e lo cita lo tira fuori in Seven dove non c'è cioè sta cercando disperatamente di vedere una cosa che non esiste perché lì non scopri che improvvisamente il cattivo non altro non scopri che improvvisamente lui ha fatto finta di non ammazzare nessuno non scopri non cambia la storia cioè non cambia il colpo di scena non cambia tutto il colpo di scena sta nel fatto che Mills diventa vittima e carnefice nello stesso momento che cambia il suo modo di vedere come ha spiegato Mauro che cambia il suo modo di vedere la vita cambia il suo modo di lavorare di pensare e quello è il colpo di scena non è un plot twist e questo è il problema della tesi di Anna Paola perché per gli altri film che lei ha tirato fuori per tutto quello che ha detto ha perfettamente ragione solo che ha scambiato una cosa per un'altra quindi in realtà l'opinione non si regge perché non sta dicendo quello che c'è nel film se ne sta inventando un'altra sta dicendo un'altra cosa è un'accusa pesante ma è questo zio è questo è questo anche in chat lo continuano a scrivere che non c'è il plot twist alla fine di scena facciamo 5 stelle lo dice il popolo lei è preparatissima e alla sua età che ci sia una persona e addestano così a Molfetta porca miseria cioè che alla sua età ci sia una persona che con così tanta passione guarda le cose si appassiona le studia e le esamina è bellissimo il problema è che ha sbagliato ha sbagliato perché cerca una cosa che non c'è tutto qua ne possiamo parlare fino a dopodomani ma lei sta criticando una cosa prendendola per un'altra semplicemente succede altro succede che lui scopre di non essere di dover uccidere lui combatte con se stesso in quel momento lui non ha paura di ucciderlo ha paura di distruggere la sua integrità morale e se non lo uccideva il film era una cagata cosa che fra l'altro stavano provando a fare perché il finale originale in realtà non era quello il finale originale era un po' più action dove c'era ma quello è come cazzo incredibile è riconosciuto da tutti da tutti come il miglior thriller almeno degli ultimi 40 anni è geniale quel finale ed è pazzesco e Anna Paola questo lo riconosce solo che lei cerca una cosa che non c'è e per questo sbaglia solo per questo vai Marco allora a parte che sfruttare quello che tu fai sempre cioè dire che un film di cui stiamo parlando è il miglior film del suo genere è implicito nel format perché altrimenti staremmo qua come ho detto all'inizio a parlare di film brutti e non ci sarebbero opinioni pericolose quindi questa questa tua tesi decade fammi parlare poi altra cosa io credo l'altra io quando ho visto Seven l'altra cosa che a me non è tornata che poi lo chiamiamo plot twist lo chiamiamo colpo di scena il punto è che alla fine quando tu lo vedi non ti dà secondo me a livello di rimanerci senza fiato che ti può dare possono dare film tipo i soliti sospetti tipo il film con Richard Gere che adesso non mi ricordo il nome eccetera il punto è sono un assassino un serial killer super geniale super calcolatore il mio obiettivo è ammazzare sette persone per i sette peccati capitali ok arrivo addirittura a programmare il fatto che siccome io assassino sono un invidioso devo morire anch'io quindi il punto è perché alla fine Brad Pitt non muore prima cosa e secondo poi perché alla fine Brad Pitt sostanzialmente quello che io dicevo prima del finale vero del film Mauro che mi fa rosicare è che il piano Seven è un film figo perché fino a 30 secondi prima del finale il cattivo sta vincendo il cattivo vince e non succede quasi mai ma nella realtà succede sempre succede spesso e quindi quella roba che dici ho finalmente un film che porca vacca il cattivo vince e tu comunque dici vedi è il mondo che ogni tanto se ne esce nella cinematografia non c'è bisogno sempre di fare il finale più bello più spettacolare più che aggradi le masse se non fosse che poi Brad Pitt alla fine Somerset dice vabbè io non mi ritiro più resto vicino a Brad Pitt Brad Pitt non si suicida non muore non gli è succeduta niente gli è morta la moglie ok succede a tante persone nella storia però per come l'ho vista io non è questa punizione estrema per come è stata presentata perché è ovvio che quando ti muore una moglie stai male però per come l'hanno messa è morta la moglie dopo 30 secondi c'è Morgan Freeman che dice vabbè tanto poi il mondo comunque per quanto faccia schifo continuiamo a combatterlo io resterò vicino a Brad Pitt e quello che mi è rimasto in testa è vabbè quindi alla fine Brad Pitt con la sua vita va avanti è quello il problema se Brad Pitt va avanti con la sua vita vuol dire che alla fine il colpo di scena non colpisce il personaggio non lo non lo fa cioè se come voleva fincere il film fosse finito con Brad Pitt che spara a lui se ne allontana fine io lì restavo tipo Inception capito come dicevi tu mi entrava nel cervello la scintilla di ma quindi adesso la sua vita è finita invece con quella frasetta finale mi avete detto che la sua vita non è finita e quindi quel colpo di scena non ha la forza che avrebbe potuto avere e non ha la forza di tanti altri colpi di scena questo è Mauro sei l'ultimo prima delle ringhe finali sei caricato il problema sono carico sono carico allora il problema ragazzi è che io condivido in parte anche se in maniera diversa quello che ha detto Giovanni ovvero dal punto di vista di struttura di sceneggiatura c'è una sottile differenza che la nostra Anna Paola sta volontariamente ignorando ovvero la differenza tra plot twist e plot point perché non tutti quanti film hanno un plot twist ma tutti quanti film hanno un plot point alla fine del secondo atto questo significa semplicemente che c'è una cosa che cambia in maniera radicale le prospettive su quello che stai vedendo ma non è detto che debba per forza essere e invece l'uomo era una scimmia perché quello dipende dal genere ovviamente esistono dei crime thriller ed esistono invece altri crime thriller il punto però ciò che rende il plot point di di seme così incredibile è che che tu ne dica Marco il problema è che tu continui ad analizzare il film solamente da un unico punto di vista è quello di un unico personaggio ma non è così il motivo per cui è così incredibile è perché fa quello che fanno tutti quanti i film di Fincher Fincher non ti dà mai una risposta Fincher ti pone una domanda e lascia allo spettatore la capacità di pensarci e di dire cosa cosa ne devo fare di questa roba e per farlo la cosa incredibile è che dal punto di vista tematico quel quel colpo di scena alla fine serve praticamente a tutti e tre personaggi in una maniera diversa ed è incredibile e questo lo rende pazzesco lo rende incredibile la maniera in cui riesce a funzionare la stessa cosa riesce a funzionare per tre personaggi che hanno tre maniere di vederla completamente diversa cioè funziona incredibilmente per portare a casa perché prima Anna Paola diceva non mi sorprende il fatto che per un per un assassino il mondo faccia schifo ma non è il per lui è il per lo spettatore quel messaggio cioè quel plot point da solo ci dice che per quanto riguarda il punto di vista di John Do ha ragione lui il punto di vista di John Do gli dice che il mondo è un posto orribile fatto di cose orribile e la gente se ne deve rendere conto Marco il punto non è che Brad Pitt deve essere punito il punto di John Do è che il mondo si deve accorgere è per questo che fa questo gesto non perché Brad Pitt venga punito non gli frega niente a nessuno che Brad Pitt venga punito il gesto di John Do deve rimanere nella storia questo è il suo punto di vista il plot point della fine del secondo atto serve a dire quello serve a dire il mondo effettivamente è fatto di gente terribile che non può sottrarsi ai propri istinti primordiali per quanto riguarda invece l'arco narrativo di di mi continua a diventare di identificarmi il nome del personaggio di Brad Pitt Miller Miller Mills Mills non Miller infatti per quanto riguarda lui il punto è che lui crede che sia facile c'è la scena quella lui in cui lui si ritrova col treno che gli sfonda la finestra nell'appartamento perché crede di conoscere la città e di aver fatto un grande affare a prendere l'appartamento invece come un deficiente ha preso l'appartamento vicino al treno perché? perché il punto è il suo personaggio dell'evoluzione del personaggio che crede che sia facile crede che sia facile gestire il conflitto tra bene e male e il plot point gli insegna che non è così che non è facile è una roba che non è così facile gestire e tutto il film ci ha portato a questo punto e improvvisamente ci ha dato uno schiaffo in faccia e quindi per lui funziona per Somerset invece funziona nel fatto che lui per tutto il film ha questo concetto che non vale la pena combattere non vale la pena combattere per il mondo e il motivo per cui quel finale Marco serve così com'è anche se è buon inizio e tutto quello perché se no lui e John Do erano lo stesso personaggio avevano lo stesso arco narrativo e quindi che palle invece no sono due personaggi per due motivi diversi serviva così tanto però non ce lo voleva a mettere ma non è quello il discorso non ce lo voleva a mettere perché era un'inutile reiterazione era ovvio che Somerset avrebbe fatto quello non serviva esatto ma il problema è che hanno fatto un testo audience e la gente ha detto non ho capito ma quindi alla fine come va a finire e quindi l'hanno dovuto aggiungere quello è un altro discorso legato alle dinamiche di Hollywood lasciamolo perdere il discorso però è che il personaggio di Somerset e il personaggio di John Do hanno un sacco di cose in comune sono praticamente la stessa persona solo che uno è un passo maniaco e l'altro è una persona disillusa e il personaggio di Somerset cosa arriva? arriva alla fine a capire che il problema è che se ci sono persone pure come Mills che riescono ad essere corrotte allora lui non può tirarsi indietro quindi la cosa assurda è che quest'unico plot point è così incredibile è così appropriato ed è così rivelatorio in quello che dice che funziona per tutti e tre gli archi narrativi dei personaggi che sono tutti e tre completamente diversi e sta a te pubblico dire chi c'ha ragione adesso? qual è il punto? da che parte sei? il mondo è uno schifo? il mondo non è così facile come sembra? o comunque il punto è che è l'unica cosa che abbiamo questo mondo quindi vale la pena continuare a combattere? non lo so ragazzi se volete una cosa più rivelatoria di questa non so che dirvelo cioè se preferite in realtà era morto tutto il tempo fate voi beh adesso denigrare così i finali di altri film non mi sembra proprio il caso insomma comunque mi perdonasse M. Night prima di prima di lanciare prima di passare alle arringhe finali io direi di lanciare il sondaggio perché lanciamo come dovete io non leggo la chat quindi com'è il sondaggio ma no scusa però così non votano in base alle arringhe finali dici chi se ne frega vabbè ok allora facciamo le arringhe finali va bene io volevo unire le cose cioè che si poteva votare mentre si c'era dopo la prima arringa finale così c'hai dopo la prima arringa ok allora decidiamo chi dell'accusa farà decidete voi decidete Mauro e Jeff decidete voi chi farà la arringa finale Mauro ho decidito per me è uguale vai Mauro vai fate Mauro allora di nuovo la parola a Maria Paola questa volta però Anna Paola veramente scusa la parola a Maria Chiara scusa Anna Paola e c'hai veramente due minuti veri di tempo quindi vai con la arringa finale spaccati ok allora io sto cercando in Seven qualcosa che non c'è è vero io sto cercando un plot twist in Seven e quello che vi sto dicendo da prima è che io non lo trovo perché a mio parere non c'è e sostanzialmente noi ci siamo detti tutti la stessa cosa che Seven sia un bel thriller che Seven sia un bel film che Seven abbia un bel finale io va bene io sono d'accordo ma questo non tutti i film che hanno un bel finale sono un film che hanno un finale con plot twist che hanno un ending twist ok io a mio parere Seven non ce l'ha ma ciò non toglie che abbia un bel finale che sia un bel film che abbia un messaggio interessante e via dicendo comunque a mio parere la bellezza del finale dato che è di questo che stiamo parlando stiamo sviando da il plot twist di Seven a la bellezza del finale di Seven allora va bene quindi posto che sostanzialmente il plot twist non c'è quindi in sostanza ciò che sto dicendo io da un'ora andiamo alla bellezza del finale di Seven la bellezza del finale di Seven sta nell'ambiguità del messaggio finale proposto verissimo sono d'accordo è vero è un messaggio cervellotico è un messaggio che lascia ad ognuno una libera interpretazione è efficace sì sono d'accordo la bellezza del finale sta in un'interpretazione spettacolare di Kevin Spacey Kevin Spacey ti mette tensione ti mette ansia ti mette ti incute queste emozioni queste emozioni trabannanti benissimo e anche il doppiaggio italiano è stupendo io ho visto entrambe le versioni e il doppiaggio fa un ottimo lavoro terzo è una questione di regia perché secondo me Fincher è molto bravo a portare in alto la tensione e poi risolvere ce lo spiega anche secondo me un film che non c'entra niente col trigger secondo me per esempio il curioso caso di Benjamin Button ha delle sequenze non apri le parentesi è finito il tempo chiudi chiudi insomma Seven ha un bel finale è vero d'accordissimo Seven ha un finale complot twist io non sono d'accordo per tutte le motivazioni che vi ho precedentemente spiegato vai Mauro ed è questa la mia opinione cioè io questo ho portato non ho detto che è brutto il finale allora infatti facciamo facciamo che però non facciamo il giro del giro del giro del giro del giro perché quello che ci siamo detti all'inizio è che il finale il plot twist di Seven è mediocre e banale non è così quello che abbiamo semplicemente detto è che non è altisonante cioè non è una roba che ti colpisce in faccia come un cazzotto perché non è quello scopo che ha però non diciamo che non è vero che non abbia un plot twist tutta questa questione è nata nel momento in cui Giovanni ti ha detto semplicemente tu lo stai paragonando a film che hanno un diverso tipo di plot twist non un plot twist più bello un plot twist più devastante proprio un tipo diverso Seven ha il plot twist semplicemente è un plot twist più sottile perché quello che hai detto all'inizio all'inizissimo di questa cosa io non lo condivido certo è ovvio che so che lui vuole fare l'assassino e che il suo ultimo omicidio deve ancora avvenire ma io mi chiedo come mi chiedo chi mi chiedo qual è il punto di tutto questo mi chiedo dove vuole arrivare e il plot twist è che me lo dice il plot twist mi dice ecco dove vuole arrivare ecco qual era il suo piano dal momento in cui lui si presenta lì e dice arrestatemi tu ti chiedi aspetta ma questo dove vuole arrivare nel senso è ovvio un assassino è ovvio che vuole ammazzare la gente il plot twist non è che è un assassino il plot twist è qual era il suo piano qual era il punto che voleva provare e arrivando il plot twist in questa maniera arrivando in maniera calma e scusa Mauro voglio solo dire che partite il sondaggio ragazzi andate a votare magari se non lo diciamo non lo nota mi dicono anche di dire che non bisogna né pagare né avere punti né niente per votare nel sondaggio soltanto se volete fare voti multipli però direi che voti multipli poi è una truffa esatto non votate multiplamente dicevo il punto comunque scusa Mauro ci ho ripensato non deciderà il sondaggio alla fine decido io vediamo cosa dice ma tanto non c'è bisogno non ho dubbio a riguardo comunque il discorso è che non è che non c'è il plot twist è un plot twist che ha un crescendo più lineare rispetto a e invece era tutto diverso ma è comunque un plot twist incredibile perché comunque fa una cosa che non ti aspetti fa una cosa che ti dice e questo è il punto che vuole approvare l'assassino e non solo nel punto che vuole approvare l'assassino è un punto che adesso io ti dimostro che forse c'hai anche tu e secondo me è un ottimo plot twist semplicemente non è un plot twist da schiaffo in faccia perché non è quello l'obiettivo allora mentre quanto manca un paio di minuti comunque il miglior plot twist della sera sono io che decido poi di non far vincere la cassa comunque io mi scuso nei confronti di Anna Paola che tra l'altro è anche una conterranea se sono stato particolarmente antipatico oggi questa opinione ci accetta assolutamente anch'io ma noi già ne avevamo parlato oggi pomeriggio quando ci siamo conosciuti in fase di test sappiamo che è un gioco ci siamo attaccati tantissimo ma era una cosa che già c'eravamo detti che sarebbe stato così io vorrei proporre se qualcuno del governo sta guardando se possiamo tirare fuori i leader del domani dal liceo di Anna Paola e Marina per favore cioè selezioniamolo proprio in maniera specifica per poi portarli in alto quanto manca alla fine del sondaggio? qualche minuto metà comunque nello specifico il sondaggio è in chat per chi non lo trova sta lì si dovrebbe vedere io non lo vedo perché non lo so ma sta lì è in alto in alto nella chat votate però come decido io a non vederlo? aspetta Marco mi leggi no 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 aspetta voglio che tu mi legga prima il titolo della live perché per me è importante il titolo della live o del sondaggio? qual è l'opinione pericolosa? ah scusa no perdonami l'opinione pericolosa è scritta proprio leggimi il colpo di scena finale di Seven è banale e mediocre ok vai ok il sondaggio è terminato ora e questa volta io vi dico che il colpo di scena finale di Seven è banale e mediocre a questa domanda 471 persone hanno risposto sì mille hanno risposto no quindi con un stranamente stranamente non così estremo 69% 69% vince vince il no in sondaggio quindi il sondaggio è per l'accusa è per l'accusa con il 69% io mi accontento del popolo invece io adesso ho delle cose da dire nel senso che di fatto poi un plot twist c'è nel film poi chiamiamolo come ci pare ma poi un plot twist c'è di fatto nel film no un po' di scena vai avanti vabbè però ci sta perché se no allora è inutile che abbiamo fatto questa puntata detto questo questa puntata è inutile esatto è inutile questa puntata di opinioni pericolose detto questo purtroppo però anche io devo dare ragione alla chat e quindi purtroppo Anna per quanto io veramente sei stata fenomenale perché tanto così c'è mancato a che io facessi vincere la difesa ma non ce la faccio perché comunque io sono molto d'accordo con quello che ha detto Mauro sul fatto che poi è un tipo di plot twist non è un plot twist come tutti quelli che abbiamo citato come wow ma quindi pensavo che era quello ma invece era quell'altro ma è un plot twist tematico lo vogliamo chiamare così vogliamo chiamare chiamiamogli un nome però io pure coerente alla trama che non la stravolge ecco diciamo che quindi vai ufficialmente vince questa prima parte di questa puntata di opinioni pericolose l'accusa e il plot twist di Seven non è banale ma con poco scarto non posso non posso mettere un nuovo sgarro sul salotto mannaggia non puoi però grazie mille perché veramente arrivare arrivare con un'opinione così pericolosa e riuscire ad avere secondo me un 69% in chat contro è una roba cioè quando Adriano per la prima volta mi ha detto qual è l'opinione io ho pensato va bene dai quindi poi chi chiamiamo e invece è pazzesca mi posso permettere di consigliarti una cosa sì no 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 semplicemente riguardalo senza cercare quel plot twist incredibile che tu ti aspetti questa cosa che il film a un certo punto si ribalta non pensare che il film si deve ribaltare non proprio guardalo senza presupposti di adesso voglio che diventa tutto in bianco e nero improvvisamente guardalo così e secondo me lo apprezzerai molto di più lo riguarderò di sicuro e infatti veramente vi ringrazio perché comunque ho ricevuto un punto di vista che sarò veramente felice di andare a cercare la prossima volta che riguarda la 7 bello e complimenti per tutti per il film sociale grazie villa Anna Paola ciao Anna Paola grazie a voi ciao ciao sta arrivando il nuovo sfida eccolo qua Igor fai un po' di ringraziamenti fallo entrare ciao Igor ciao Igor io non so allora ragazzi io vi dico questa cosa aspetta Adriano che forse non sentiamo il microfono Igor fatti sentire no non ti sentiamo attaccati il microfono e la stessa cosa è successa oggi pomeriggio però nel frattempo mentre Igor prova io volevo dire che se voi avete assistito adesso si se voi avete assistito ad una discussione pazzesca fino adesso su 7 con Anna Paola voi non sapete che cosa sta per uscire adesso con Igor ragazzi perché se cosa non mi avete ringraziato no non lo so quindi tenetevi forte alle sedie io per fortuna qua ho i braccioli perché adesso sta per succedere un altro dramma sta per scatenarsi un'altra vai Marco dillo vi pregherei di scrivere 112 in chat sono i pompieri 112 ormai sono i pompieri 115 scrivete 115 perché se prima serviva l'ambulanza per Giovanni adesso servono i pompieri per casa di Igor perché Igor poi c'è anche soffitto in legno quindi Igor mi raccomando dilla bene aspetta aspetta Igor intanto dici da dove sei cosa fai nella vita quanti anni hai raccontaci un po' sono di Torino ho vent'anni e nella vita sono uno studente di scienze tecniche psicologiche all'università di Torino primo anno quindi matricola quindi un altro psicologo vabbè però primo anno vabbè però te la puoi dire lo stesso il percorso è ancora lungo quindi ragazzi siete pronti Giovanni già ti sente male Giovanni stasera ti viene infarto ti viene dito totale secondo me ti sente proprio male vai Igor dilla dilla bene la mia opinione pericolosa è un pochino più commerciale aspetta non dirla aspetta vabbè dilla 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 ma siamo sicuri che la deve dire dilla è un pochino più commerciale per il tema trattato rispetto a quella di Anna Paola però la pericolosità c'è ed è fondamentalmente che la futura trilogia attuale saga di Jurassic World sia narrativamente più efficace adesso poi vi dirò perché parlo di efficacia rispetto alla trilogia degli ormai anni 90 di Jurassic Park diretta da Steven Spielberg e anche prodotta da Steven Spielberg ragazzi io la devo attivare veramente questa opinione cioè devo premere il pulsantino per attivare questa roba non fare così Giovanni perché può essere che tu la debba difendere quindi non ce la posso fare ok ok l'attivata ma io come posso tu sei sicuro di questa cosa Igor tu sei sicuro hai visto tutti quanti come cazzo hanno fatto io ci terrei l'episodio in cui io e Adriano diciamo quanto è bello Jurassic World io ci terrei a specificare che l'opinione è che la saga di Jurassic World è narrativamente più efficace quindi in chat ragazzi non date le cose per scontare mi riallaccio mi riallaccio a quello che ha detto adesso Marco perché parlo appunto di parte narrata perché come ricordava aspetta 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 dobbiamo fare le squadre aspetta state calmi allora siccome facciamo così allora Giovanni in difesa Giovanni io vorrei divertirmi e vederti in difesa no no zio ti senti male quindi non puoi fare non ti ci posso mettere quindi siccome Marco ha già fatto la difesa con Anna Paola chi se non Mauro può provare a difendere una roba di questo tipo perché Mauro è un po' il king poi di opinioni pericolose quindi lui soltanto può provare ad affiancarsi ad Igor e quindi se mi confermate che l'opinione pericolosa è scritta e lascierei la parola ad Igor e la pressione sale a tutti Matteo Bruno e quindi via Igor prego allora partirei enunciando un primo punto e ne ho preparati più di uno ma gli altri me li tengo poi per il trash talking scusa scusa Igor si sente pianissimo scusa il trash talking di Giovanni io voi siete tutti e tre nello stesso canale quindi se voi vi sentite bene Igor si sente piano deve alzare lui il suo volume ho la voce ok ho la voce alzo la voce grazie Igor e tratterei come primo punto per descrivere la narrazione che all'interno di questo film è con un fattore Jurassic Park come sappiamo è uno dei grandi brand del cinema ormai è uno di quei tormentoni da un certo punto di vista come come concetto cinematografico sia per la realizzazione che per il tema trattato nel tentativo di ritornare su questo brand secondo me la produzione che dietro Jurassic World ha fatto ha trovato una bella occasione nel cercare di rinnovare il tema e anche elevarlo da un certo punto di vista perché intendo elevarlo se noi pensiamo al diciamo anche un certo rapporto psicologico che intercorre tra le figure umane e le figure che sono i dinosauri quindi questa sorta di antagonista che è poi la natura all'interno della trilogia di Jurassic Park Igor tieni il microfono vicino alla bocca sono al massimo noi non troviamo un vero e proprio rapporto no il problema Igor è che non stai usando il microfono delle cuffie ecco perché perché non è quello mettiti il computer più vicino vai perché stanno dicendo tutti quanti che si sente veramente piano no no vabbè mettilo giù come mi fa stare così in mezz'ora vabbè dai avvicinati un po' lo schermo un pochino vai cosa stavo dicendo appunto noi troviamo nella prima trilogia questa contrapposizione che in realtà non ha un vero e proprio villain nel senso che l'essere umano si trova in un rapporto di contrasto con la natura in cui non identifichiamo una vera e chiara figura cosa che invece possiamo trovare ad esempio in una nuova trilogia nella nuova quella che poi naturalmente diventerà una trilogia virus permettendo perché intendo dire che lì ci sia un vero e proprio villain perché nel tentativo e qua sì c'è un piccolo spoiler di creare questa mutazione genetica all'interno dell'animale preistorico loro arrivano a ragionare su un tema che è molto più profondo nel senso che si è passato da una semplice contrapposizione tra uomo e natura che poi viene risolta con una banale soluzione deus ex machina da un certo punto di vista in quanto di fatto le figure umane si tirano fuori dai problemi senza un reale motivo e senza una reale pratica soluzione invece nella nuova trilogia noi troviamo un significato più profondo all'interno di questa narrazione scelta narrativa in quanto trasformando questa figura anche umanizzandola perché di fatto si tratta sia da un punto di vista genetico ma anche da un punto di vista di approccio comportamentale da quello che possiamo vedere all'interno della pellicola umanizzando questa figura noi troviamo una sorta di scontro quasi umano versus umano quindi eleviamo molto il tema ed è una cosa particolare se pensiamo che si tratta alla fine di un film che è tarato per un pubblico molto vasto una tematica che comunque ha un relativo spessore a seconda di come essa viene trattata e secondo me qua rimanendo naturalmente nei canoni della filmografia di cui stanno trattando secondo me è trattata in maniera molto efficace e appunto loro riescono a trattare un tema che di fatto è normalmente presente in un cinema di nicchia nonostante in questi anni la contrapposizione il fatto di governare la natura da parte dell'uomo sia ricorrente anche in ambito sociale ma riescono appunto a elevare questa figura e portarla a livello di un film che può essere visto da grandi e piccini fondamentalmente come è sempre stato per i vecchi film di Jurassic Park che è come sarà per i nuovi e questo è fondamentalmente il mio primo punto per iniziare ad approcciarci al tema allora lascerei subito la parola a Marco facciamo o Giovanni io sto con lui tocca no scusate no 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 hai ragione tu hai ragione tu Marco se vuoi visto che l'altra volta ho iniziato io se vuoi puoi iniziare tu allora inizio io la prima cosa che dirò vai calmo tu hai letto il libro di Jurassic Park lo sappiamo no no non è questo intanto fammi parlare la prima cosa che dirò è che io non credo che il tema narrativo del primo giro guarda neanche parlo del secondo del mondo perduto e del terzo parlo solo del primo che narrativamente basta a doppiare se non triplare se se esiste come termine i due film e anche il terzo anche se non l'ho visto Jurassic Park comunque è meglio già lo so adesso no no già lo so e ti dico perché parla del fatto perché il tema il cattivo quello che tu dici che non c'è e che non si vede è l'essere umano perché il punto è proprio quello non è inutile che Mauro scuoti la testa perché l'essere umano è il cattivo peggiore che si possa immaginare perché il punto di Jurassic Park è proprio che l'uomo quando si mette a giocare a fare Dio certe volte diventa il cattivo e certe volte si provoca i danni per se stesso prima cosa seconda cosa come ha detto Mauro narrativamente Jurassic Park nasce dalla penna di uno degli autori di fantascienza forse più importanti degli ultimi non so vent'anni che è Michael Christon che ha scritto Jurassic Park 1 e il mondo perduto mentre Jurassic World poi è andata a fare compagni a Heath Ledger poi è andata a fare compagni a Heath Ledger per diciamo a un certo punto è normale che succeda a tutti no no era prematuro era prematuro comunque detto questo e mentre Jurassic World è stato scritto probabilmente da 25 scimmie assunte da non lo so chi comunque io credo che in ogni caso l'ha scritto Spielberg no dice sempre da Spielberg ma comunque prendi appunti lo stesso prendi appunti prendi appunti lo scrittore sì ma non sono tratti da capolavori della narrativa scritti da un autore pazzesco perché quindi perché è morto e quindi io dubito che siano andati lì nella tomba a prendergli la mano è morto addirittura prima del terzo esatto e infatti anche il terzo non è roba di cui io parlo quindi i due punti che porto molto semplici il primo il cattivo in Jurassic Park c'è il tema narrativo è fondamentale che è quello che stiamo avendo anche adesso con il cambiamento climatico che l'uomo è il primo nemico di se stesso e due narrativamente parlando sono stati tratti da due capolavori della narrativa di fantascienza scritti da uno dei più grandi autori degli ultimi vent'anni alla parola a Mauro così può smettere di squadrare la testa posso? vai vai sì allora quando hai finito di giocare a Tetris no non sto giocando a Tetris come dicono nella chat sto cercando informazioni sulla Snyder Cut no non è vero è che io ho aperta anche la chat di Telegram e quindi leggo le cose che ci diciamo tra di noi le cose segrete che ci diciamo tra di noi a parte questo a parte gli scherzi allora Igor non sostiene che il film sia meglio in toto dice semplicemente che la parte narrativa la parte tematica dello scontro viene raccontata meglio nella nuova trilogia e su questo effettivamente per quanto inizialmente ho avuto un mezzo mezzo ictus a sentirla però non ha tutti i torti perché Jurassic Park è un bellissimo film ed è incredibile la maniera in cui parla dei suoi personaggi però alla fine il tema è più tutta una una situazione di di estinzione personale perché c'è il 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 protagonista non mi ricordo il nome è Gramlò Mauro è Gramlò stasera parla parla come da un po' non mi ricordo come si chiama l'archeologo come si chiama il protagonista Alan Grant o l'attore Sam Neill no 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 Alan Grant il protagonista condivide lo stesso lo stesso percorso con il proprietario del parco entrambi devono capire devono cercare di evolversi ma non devono abbandonare insomma è quello il tema del film lo scontro tra uomo e natura è secondario e come dice Igor viene risolto improvvisamente alla fine in Jurassic World la cosa incredibile è che l'avversario è comunque il dinosaurio è comunque l'uomo perché è dentro il dinosauro poi non so se ricordate l'indominus rex contiene DNA umano è quello il punto è l'uomo che ha reso peggiore il dinosauro ed è quello scontro lì lì fisicamente l'uomo si è fatto natura ed è diventato nemico per quello ha un nemico più forte e la tematica ed è l'uomo che distrugge la natura e questo scontro tra l'uomo che vuole cambiarla vuole controllarla fino a mettercisi dentro è più tematico dentro la nuova trilogia di Jurassic World inoltre è una roba che piano piano viene portata avanti che viene annunciata e viene spalmata lungo questa trilogia perché giustamente non è un film piccolo come Jurassic Park che doveva essere una roba singola un one shot e doveva parlare quindi usando l'analogia dei dinosauri invece un rapporto piccolo è un film che si pone come obiettivo quello di sviluppare questo tema per tre film e quindi si pone come dire l'obiettivo di impostare nel primo film una cosa e poi parlarne meglio nel secondo e concluderla in quello che si spera finiranno di girare che è il terzo vai Giovanni tu che sei Jeff Gold Jeff Gold esatto in una delle scene più belle di Jurassic Park che non è quando corrono con i dinosauri dietro che non è quando vedono il T-Rex la prima volta ma è seduti a cena a petto nudo anche ma quando sono seduti a cena nella prima cena dice i vostri scienziati erano così eccitati dall'idea di poterlo fare che non si sono chiesti se lo dovevano fare quello è quello che ha detto Marco prima è il centro di Jurassic Park Jurassic Park usa il mezzo dei dinosauri di questa scoperta incredibile della possibilità di rimettere in vita qualcosa che è estinto per raccontarti un problema più grosso stiamo avanzando così velocemente nel tempo con la tecnologia siamo così eccitati da quello che riusciamo a fare che non abbiamo il tempo di fermarci a dire ma è il caso di farlo quindi l'etica se ne sta letteralmente andando a fanculo perché adesso abbiamo la possibilità di crearci un baby dinosauro cioè veramente c'è un momento dove dicono pure dov'è la cosa la vera eccitazione di quest'idea avete trovato un modo per ricreare degli animali estinti la natura li ha selezionati per l'estinzione dovevano essersi estinti e adesso noi stiamo ributtando in mezzo nella vita adesso degli esseri che non dovrebbero esserci questo è il tema di Jurassic Park creato magistralmente a Steven Spielberg che nel parlare di temi enormi come una cosa del genere riesce a creare un fantastico film di intrattenimento soprattutto per i grandi ma anche per i bambini il nuovo Jurassic World la nuova trilogia di Jurassic World non ha niente di tutto ciò c'ha Chris Pratt che è l'unico film decente che ha fatto è Guardiani della Galassia dove non viene voglia di menerlo va bene che se ne va in giro il cattivo è questo dinosauro gigante per cui non ci credono neanche loro che questo dinosauro gigante è fico infatti alla fine viene sconfitto dal vero re di Jurassic Park che è il T-Rex che è il cattivo tra virgolette perché non è il cattivo poveretto è una vittima assurda è un animale è un animale ed è una vittima assurda di tutto quello che dicono in Jurassic Park Jurassic World è solo una roba con i fuochi d'artificio belli colorati ma che alla fine quando arrivano sopra tu vedi il colore ma non fanno il botto perché non fa minimamente il botto perché è una cosa ridicola fuochi d'artificio di giorno di giorno si sono trovati questa idea geniale secondo loro che i dinosauri tra di loro potevano comunicare come potevano comunicare giusto per trovare una cretinata da aggiungere nuova cosa che già ci avevano provato per il terzo beh però esatto stavano avendo e infatti ci avevano già provato per il terzo cosa che purtroppo non ci sono veramente riusciti infatti Seed Spilger dice secondo me quel film non era proprio una meraviglia infatti non lo dirigere anche è la magia di dove Alan Grant suona la pipa esatto in Jurassic World lo ritirano fuori questo concetto in un modo così a caso semplicemente per rimettere i dinosauri in CGI e farli combattere tra di loro sono molto più credibili e facevano molto più paura se vogliamo parlare solo dal punto di vista di blockbuster solo di film facevano molto più paura quelli del primo Jurassic Park che era fatto tipo vent'anni prima se non di più aveva una tematica più forte i mostri funzionavano meglio e gli attori erano 150 mila volte più bravi infatti c'era Jeff Goldblum va Igor sei pronto? Jeff Goldblum a petto che è un personaggio a parte a petto prontissimo allora mi permetto di dire che gli interventi di Giovanni e Marco sono stati molto interessanti però se ci fate caso avete sostenuto le stesse cose che abbiamo sostenuto io e Mauro perché appunto primo né io né lui abbiamo mai detto che l'uomo nei primi Jurassic Park sia il bene anzi è peggio è ancora peggio è molto più negativo come figura rispetto alla natura in quei film un'altra cosa poi che ha detto Giovanni che invece ci riporta al tema del finale dei primi Jurassic Park è che lui come ci ha definito adesso il finale di Jurassic World è emozionante perché c'è questo ritorno no no io non ho detto che è emozionante però comunque hai fatto notare come il T-Rex ristabilisca poi da un certo punto di vista la situazione quindi come la natura si riprenda possesso anche di quello che sta accadendo e quindi con questo punto già qui abbiamo visto come effettivamente il finale di Jurassic World sia più solido perché è vero riprende un punto che è della vecchia trilogia ritorna su un qualcosa ma per forza un legame il filologico c'è però di fatto lo eleva da un certo punto di vista poi Marco Cioni ha detto che non avrebbe neanche preso in esame il terzo film e ha detto bene perché lì troviamo un altro punto nella prima trilogia non c'è una continuità c'è un filologico che è il tema trattato della preistoria e tutto quanto ma non c'è una vera e propria continuità che invece è il punto fermo della nuova trilogia cioè si basa proprio su questo aspetto di continuità mentre invece la prima trilogia di fatto sono tre film quasi slegati tra di loro se voi fate caso l'unico filo conduttore è la presenza dello stesso tipo dello stesso personaggio dello stesso protagonista che nel secondo ritorna come Jan Malcom e nel terzo ritorna come Alan Grant però per il resto a parte un filo conduttore maggiore non c'è tanto più legame e poi oltre a questo vi faccio notare anche come Igor comunque si sente meglio quando sei un po' più distante se devo dire la verità ditemi voi la distanza è là un po' più meno un po' meno non lo distrarre non lo distrarre rimango sul pezzo e con questo ritorniamo sempre al punto dell'esecuzione che io non ho mai detto che anzi io trovo che siano pagine di storia come è stato eseguito come è stato messo in pratica il tema soprattutto del primo Jurassic Park se pensiamo che quella truppa ha ricostruito un dinosauro a grandezza naturale l'ha messo sotto una pioggia infatti il punto non è come esso è rappresentato ma come esso è narrato qui c'è molto più uno spessore e poi soprattutto un altro punto sempre riguardo al tema è la contrapposizione uomo-natura nella prima trilogia ci viene facile patteggiare per uno o due parti fondamentalmente il pubblico alla fine patteggia per la natura insomma che si riprende il controllo di tutto quanto però con la presenza di questa natura umanizzata nella nuova trilogia diventa anche difficile trovare il pubblico che si schiera da una parte piuttosto che dall'altra se ci pensate cioè diventa molto più una scelta da costruire mentre invece rimane molto più mainstream e commerciale questo tipo di approccio per quanto riguarda la prima trilogia beh allora beh io no beh però andiamo avanti vado certo scusa beh prego prendo appunti sempre vai prendi appunti molto vicino allo schermo però Igor esatto cioè c'è sempre il distanziamento sociale ragazzi scusate una cosa quando Igor parla lo riduco quando Igor parla alzo il volume a ciavatta quindi se gli andate sopra rendiamo sorda la chat ok allora io volevo dire intanto che ho letto nella chat che il libro Jurassic Park non è un capolavoro della fantascienza non l'avete letto secondo me perché è ancora diverso dal film ed è anche meglio ma questa è un'altra opinione pericolosa detto questo il punto è che tu Igor secondo me stai prendendo un po' il fatto che ovviamente una trilogia che è pensata in testa per essere una trilogia c'ha la possibilità di essere narrativamente più coerente all'interno della trilogia la possibilità detto questo come io ho detto all'inizio io non starò qui a difendere nel il secondo film eh ci può stare il terzo film il primo e il secondo il terzo film ma io qui sto a parlare solo e soltanto della narrativa introdotta dal primo film e ragazzi non è che siccome è un film piccolo come ha detto Mauro che secondo me hai fatto rivoltare nella tomba molti cineasti dicendo che Jurassic Park è un film piccolo non è il problema del fatto che è un film che nasce dal punto di vista per essere stare lì ed essere magari un singolo film perché può essere che non incassa e quindi non faccio il seguito il punto è che tutto quello che viene detto in Jurassic World è già stato detto in Jurassic Park Jurassic World per quanto possa essere narrativamente più gonfio di significato io non ce lo vedo il punto è che se tu prendi una canzone che è stupenda lunga due minuti e poi la fai diventare di 25 minuti dicendo le stesse cose quella canzone è meno interessante della canzone da due minuti per cui Jurassic World non dice niente di nuovo rispetto a Jurassic Park e quindi non può essere narrativamente più coerente più interessante non mi ricordo qual è l'opinione pericolosa non può essere migliore narrativamente perché non aggiunge nulla non è neanche più efficace perché non aggiunge nulla è più efficace se tu l'efficacia la declini in base al fatto che è girato e poi pensato per un pubblico molto più pop allora è più efficace ma non è questo il punto perché la narrazione resta efficace quando il messaggio alla fine ti arriva e con Jurassic Park il messaggio alla fine ti arriva e il messaggio che ti arriva alla fine di Jurassic World è esattamente lo stesso che ti arriva alla fine di Jurassic Park non cambia niente a parte che Mauro ha detto in esattezza perché nell'indominus innominus rex non c'è il dna umano ma è presente no nel secondo umano no ragazzi si scopre solo che una certa no no scoprono solo che una certa c'è anche il dna del velociraptor per questo il velociraptor e l'indominus rex riescono a parlarsi dice il dottor e ammessa il nominus rex qual è il primo o il secondo vado a vedere il primo nel secondo c'è il dna umano ah nel secondo può essere nel secondo che fanno comunque detto questo anche questa cosa cioè è lo stesso concetto ragazzi non è che come ha detto Mauro non è che se io reitero e aggiungo di più con più forza e gonfio di più questo palloncino del tema dell'umano contro la natura mettendo il dna umano nel dinosauro allora ho narrativamente sviluppato qualcosa è la stessa cosa ma spinta di più perché non stai aggiungendo niente di nuovo quanti anni dopo vent'anni dopo non lo so quando è uscito Jurassic Park 16 vabbè diciamo no 92 no 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 Jurassic Park è del 92 Jurassic World non lo so 16 direi 16 ma Jurassic Park è del 92 comunque in generale un film che oggi mi dice le stesse identiche cose che mi hanno già detto vent'anni fa a livello narrativo ma me le dice in maniera più gonfia 93 più americana tentativo di essere spettacolare e per incassare ma poi narrativamente non aggiunge niente ragazzi perché è innegabile che Jurassic World non aggiunge nulla a quello che era già cioè è già l'ingegneria genetica c'è già è solo che l'hanno l'hanno reintrodotta tant'è che quando io giurassi i cort molti hanno parlato dei quasi remake non si è parlato neanche di seguito è un seguito perché ci sono personaggi diversi con una trama diversa è lo stesso film ma siccome siamo vent'anni dopo lo scienziato è sempre lui esatto infatti poi devo dire due cose su sto scienziato vai Mauro vai Mauro quindi è questo non aggiunge nulla e quindi non può essere narrativamente migliore perché sono passati vent'anni non aggiunge nulla adesso aspetta che sento abbassa un po' il volume che sento il rumore degli specchi su cui ti stai arrampicando vai Mauro non aggiunge nulla il punto è che il problema tra virgolette perché poi io adoro Jurassic Park però il problema relativamente a quello di cui stiamo parlando con Igor di Jurassic Park è che John Hammond non è cattivo non ha un ruolo da villan e infatti ma chi lo sta dicendo il problema è quello il problema di Jurassic Park è quello il problema di Jurassic Park è che essenzialmente verso la fine quello che succede è che i cattivi sono i veroci raptor ma perché sono cattivi cioè alla fine stanno facendo quello che volevano fare anzi John Hammond è spinto proprio da invece da un sentimento di amore esattamente chi è l'unico cattivo l'unico cattivo è il ciccione che non ricordo come si chiama che è quello che è quello che è Dennis Nedry Dennis Nedry che è la superficialità è l'unico che effettivamente fa qualcosa di sbagliato è l'unico personaggio che effettivamente fa una cosa apertamente negativa per il resto è tutto lasciato un po' alla casualità della natura che interagisce con se stessa è il concetto che dice poi Jeff Goldblum life fans away no questo concetto che la natura a un certo punto si riprende il suo posto però fai difficoltà a capire ok qual è il punto il punto è uno senso di spirito di luddismo cioè dobbiamo stare attenti dove andiamo avanti con 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 la tecnologia dobbiamo stare attenti qual è il punto dobbiamo andare avanti ma non troppo dobbiamo andare avanti ma dobbiamo starci attenti qual è il punto ok perché alla fine che cosa è sbagliato John Hammond perché era comunque mosso da un poi alla fine era la sfiga esattamente mentre c'è la malevolenza c'è la malevolenza ma Adriano ha accolto esattamente il punto che sto facendo nella saga di Jurassic World c'è una malevolenza da parte dell'uomo e quindi c'è una malevolenza da parte dell'uomo ed è quello che rende il film tematicamente più focalizzato su quello che vuole dire ma che cazzo sta dicendo ma ora è finito ma ora è finito scusa scusa dal primo al secondo si esplorano due parti diverse di quanto è terribile l'uomo in confronto alla natura ovvero nella prima parte che pur di fare profitto arriva Quindi in questo caso Jurassic World non è mosso da John Hammond che vuole fare una cosa bella per i posteri, no no no, qualcuno vuole semplicemente fare profitto, infatti il parco non viene chiuso proprio perché il concetto è appena riaperto, sta guadagnando soldi, non possiamo permetterci di mandare la gente a casa. E succede un disastro per quel motivo. Nel primo film quindi vediamo questo lato dell'avarizia umana, nel secondo film vediamo il problema relativo al fatto che anche all'interno di una tragedia comunque l'uomo trova sempre una maniera di prendere quella tragedia, sfruttarla ulteriormente, renderla ancora peggiore che quello che poi continuiamo a fare tutti i giorni con tutti i problemi che abbiamo relativamente alla natura, relativamente al riscaldamento globale. Non c'è un John Hammond che poverello voleva fare solamente una cosa buona e invece purtroppo sta ritrovando a distruggere il mondo, no, sono persone che lo sanno che lo stanno facendo e non gliene frega niente. Per quello, su quel tema specifico che poi è il punto di tutta la trilogia, non di Jurassic Park, di tutta la trilogia, la nuova trilogia è semplicemente più focalizzata perché è stata fatta dopo, a me non gliene frega niente qual è il motivo, però sicuramente è più focalizzata ed è narrativamente più precisa. È solo più chiara, è solo più chiara per il pubblico di adesso che non ha voglia di stare lì a pensare e a capire qual è il film, che non ha voglia di studiarsi bene i finali dei film. E per un pubblico che si siede vuole essere intrattenuto perché il dinosauro deve essere più grande, più grosso e con più denti e basta. Il pubblico di adesso che non riesce semplicemente da dei dialoghi, da delle situazioni a cogliere la vera assenza del film, è il pubblico che ha bisogno che te lo sottolineano, che te lo fanno vedere, che te lo fanno più grosso e più cattivo, che vogliono più botti, è solo ed esclusivamente quello. Luca Corbi dice ma il T-Rex era alto quanto Marco Cioni? No, era più basso di Marco Cioni. Infatti nell'Indominus T-Rex ci sono i miei geni. Esatto, gli geni umani ci sono i suoi. Fra l'altro come diceva prima Igor, semplicemente non hanno fatto altro che prendere, è vero che io dico che in Jurassic World per cercare di rendere decento il film alla fine hanno ripreso il T-Rex, perché nel T-Rex che era stato utilizzato alla fine del primo film era perfetto, assolutamente perfetto, e tutti e tre i film, anche quello brutto che è il terzo, che è quello più brutto, dei primi tre finivano tutti allo stesso modo, la natura alla fine vince, i due Jurassic World che finora conosciamo finiscono esattamente allo stesso modo, la natura alla fine vince, che cosa hanno cambiato, che cosa hanno reso narrativamente più incredibile, hanno utilizzato, sono partiti allo stesso modo, sono finiti allo stesso modo, sottolineando le cose che il pubblico di adesso non riesce a calcolare molte volte da solo, oppure che non ha voglia perché vuole andare al cinema semplicemente a vedere i mostri che combattono, punto e basta. Spielberg con i primi Jurassic World. Però anche nel secondo hanno fatto il combattimento tra il T-Rex, no il terzo tra il T-Rex e lo Spino Stavano. Appunto, appunto, già era stato fatto. Certo, certo, perché si utilizzano quelle cose nel cinema, provano a riciclare quelle cose che funzionano, quelle cose che hanno fatto la storia, quelle cose fiche, quei concetti che nella nostra memoria rimangono stampati a fuoco, provano a riutilizzarlo. Il primo film è un film d'amore verso la natura e anche verso i dinosauri. Il secondo anche aggiungendo un pizzico di azione. Il terzo gli è uscito perché volevano farlo. Jurassic World, la nuova trilogia, è semplicemente una roba che utilizza gli stessi concetti dei primi tre film, perché non hanno avuto neanche il coraggio di provare a inventarsene di nuovi più di tanto, perché non avrebbero potuto reggere il confronto, sottolineando delle cose... Con gli steroidi. Con gli steroidi, giusto Marco. Aggiungendo a un certo punto che cosa? Che adesso si mettono a clonare pure i bambini, pure i ragazzini. Nel secondo tirano fuori questa stronzata iperatomica della bambina che viene clonata. Grazie Pextar per aver addonato altri tre abbonamenti, aggiungo. Grazie. Con i tuoi abbonamenti ci croneremo una bambina. Esatto. Cioè, non sanno più dove devono andare a parare. L'unico in cui spero che forse sarà un minimo decente a livello di concetto... Di nuove idee. Può essere di nuove idee, può essere il terzo, che fra l'altro batterà una strada che già Jurassic Park 2 ha battuto, cioè i dinosauri nelle città. Non diciamo come finisce il 2, sennò è Megaspoiler, ti prego. Ma perché? Già si sa qualcosa del terzo? Dicono che lo devono fare. Non si sa. L'unica cosa... Non è un T-Rex, finisce in un modo. L'unica cosa che si capisce è che il terzo dovrebbe riprendere un parte delle idee del secondo Jurassic Park. Perché la seconda trilogia prende dalla prima, come lo fanno dal primo film. Ripete, ripete gli stessi concetti con i fuochi artificio più belli, ma di giorno. Ci siamo. Beh, pure questa... Io abbiamo finito due giri, mi so volate. Volevo sentire di nuovo Igor, però lo possiamo risentire nella ringa. Io direi di fare di nuovo come prima, cioè facciamo partire la ringa di Igor, poi facciamo partire il sondaggio, e poi facciamo la seconda ringa. Pensate a chi la farà, me lo dite dopo. Quindi, iniziamo dalla ringa finale di Igor. Due minuti per chiudere e convincermi della tua idea, della tua opinione pericolosa. Allora, io rimango su un punto riguardo al finale. Nella prima trilogia, è vero, vince la natura, e vince la natura anche nella nuova trilogia. Ma c'è una differenza. Nella prima trilogia l'uomo non perde. Perché l'uomo se ne torna a casa beato e tranquillo, per poi tornare sull'isola a comodo suo, mentre invece nella nuova trilogia, col fatto che queste creature squarrazzeranno libere per gli Stati Uniti d'America, dove di fatto poi si trovano come ambientazione, l'uomo si deve fronteggiare con questo fattore di aver veramente perso. Ma aver perso da un certo punto di vista con se stesso, per aver abusato del proprio potere, ha cercato di andare oltre e ha perso. E' questo fattore di questi animali che di fatto si stanno riprendendo il controllo. Perché ricordiamo che il secondo film ha come titolo il regno distrutto, ma non è il regno distrutto dei dinosauri, è il regno distrutto nostro. C'è questo fattore di dire l'uomo stavolta ha perso, è finita, è andato oltre, ha abusato del suo potere. E quindi adesso la natura si sta veramente riprendendo il controllo di tutto quanto. Adesso la natura non può più essere fermata. Diversamente dalla prima trilogia. Anche nel secondo film, quando vediamo il T-Rex che viene portato a San Diego, alla fine poi lo narcotizzano, lo riportano sull'isola e finisce lì. Alla fine l'uomo se la cava sempre. Adesso però l'uomo non se la cava più. Ed è questo il punto focale di Jurassic World. E questa è la tematica importante. Che adesso c'è un punto di riflessione che è forte. Non è autorisolutivo, anzi fa riflettere da un certo punto di vista. Fa riflettere su dove l'uomo sta andando. E fino a dove si vuole spingere con questo suo abuso nei confronti della natura. Sì, questa ringa finale mi ha emozionato. Posso chiudere io? Sì, voglio solo dire una sola cosa. Aspetta, aspetta, aspetta. No, no, no. Diamo il via al sondaggio. Quindi il sondaggio di preciso sarà? Lo sappiamo? No, lo leggete. Vabbè, poi lo leggete. Io voglio solo dire una cosa. Bellissima ringa finale, ma si basa su il niente. Perché comunque il terzo film non è uscito. Non lo sai come finirà. O la fai te la ringa finale o la fai Giovanni. No, no, è solo questo. Nel senso che non è idea. Quindi magari finisce che torna tutto. Vuoi prima a rivederci e grazie. Quindi parliamo dei film, non parliamo dell'idea che abbiamo. Ma per questo io mi sto basando su quello che c'è adesso. Scusate, scusate. Che non lo sai. Vabbè, allora. Posso? Intanto il sondaggio è partito. Comunque, Igor, anche nel primo film alla fine gli umani se ne vanno. Esattamente come finisce alla fine del primo Jurassic World. Gli umani sono sconfitti e se ne vanno perché ha vinto la natura. Succede lo stesso nel primo Jurassic Park. Nel secondo Jurassic Park gli umani tornano. Esattamente come succede nel secondo Jurassic World. Dove gli umani tornano e si prendono gli animali, e si prendono i dinosauri. La natura, l'impero distrutta, adesso non mi ricordo manco come si chiama quell'abominio, in realtà non si rivolge all'essere umani, ma si rivolge alla natura che distrugge il regno. Nel secondo film i Jurassic World hanno calcato sempre per quel discorso di prima il concetto dei primi tre film perché il regno viene distrutto dalla natura, viene distrutto dal vulcano che erutta e spazza via tutto. Il concetto è sempre quello, è la natura che distrugge quello che l'uomo crea. È un reboot pieno. Totalmente, a livello concettuale, prendono tutto quello che hanno fatto nella prima trilogia e lo rimettono con gli steroidi, cercando di riportare la gente al cinema. Jurassic World è un tentativo terribile di riprendere una cosa che è stato un capolavoro assoluto della storia del cinema che ha rivoluzionato il cinema del primo Jurassic Park e fra l'altro sia Marco che Mauro l'hanno detto in una puntata di come cazzo hanno fatto che ho trovato su YouTube, fra parentesi, lo prendono e lo rielabbo. No, no, ci prova a rielaborarlo ma non ci riesco, perché succedono le stesse cose e declinate semplicemente in modo diverso con i botti. Poi fanno delle cazzate abnormi, cioè tu vi vuoi dire che in una storia sensata il medico che è stato, che ha causato tra virgolette con il suo volersi sentire Dio l'errore base di Jurassic Park cioè di non calcolare che utilizzando alcuni geni dei rospi che poi automaticamente cambiano da maschio a femmina quindi fallisce perché alla fine permette ai dinosauri di riprodursi perché loro li hanno creati tutti femmine questo medico ha fatto una cazzata questo scienziato alcuni diventano maschi altri rimangono femmine e si riproducono lo stesso medico che ovviamente gli altri due Jurassic Park a meno ci hanno avuto la buona idea di dire questo non lo possiamo ricicciare in ballo in Jurassic World non avendo minimamente un'idea originale che fanno lo ripigliano e lo ricicciano dentro diciamo che avrebbe potuto imparare qualcosa ma come ma che cosa ridicola quella è stata la prima cosa ridicola di quel film poi ce ne sono un'altra valangata di cose ridicole ma quella è stata quella più grossa cioè è un po' tipo che io richiamo Schettino a guidana nave esatto bravissimo Marco cioè adesso Schettino ha sfracelato ad una nave io lo richiamo ma il primo era il primo ma nel primo è il primo poi lui fa la cazzata e dove dice ciao Gore e lo mandano via perché loro scoprono questa cosa è Alan Grant che scopre questa cosa quando trova le uova di dinosauro e dice aspetta avevano detto che non si potevano riprodurre da solo ragione dice no perché alcuni rospi fanno bla 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 le annusa quello che fa fa la cosa mi ha sempre colpito che annusa le uova aperte lo fai con quelle di gallina giusto? sempre ogni giorno io ogni volta che apro un uovo lo annuso e dico life finds a way poi e si riproducono quindi tu in una storia che ha un senso prendi il personaggio più deficiente e lo rimetti in gioco dandogli in mano di nuovo la struttura e che t'aspetti? scusate io leggo il chat che si sta svolgendo un mercato nero dei voti per cui qualcuno scrive se buttate Jurassic World vi regalo abbonamenti ah no allora così non vale poco poco però così non vale però scusate mi prendo la responsabilità di dire che già grazie grazie ha sbagliato però con un errore di battitura non è stato un errore di inglese perché la stessa persona è quella che ha scritto sia l'opinione che ha scritto anche il sondaggio quindi se nell'opinione ha scritto giusto Jurassic World con la RLD vuol dire che lo sapeva scrivere tutte le tonalizioni da oggi saranno usate per far fare un corso di inglese a Giacomo Bori andiamo avanti niente basta io ho concluso abbiamo quasi finito manca pochissimo comunque ci tenevo a dire per youtube no non andare a vedere scusa Giovanni questa roba montala su youtube a un certo punto perché qui su youtube io leggo sempre la gente dice queste opinioni è diventato il format la spariamo grossa ora leggiamo poi le percentuali ci ricordiamo le percentuali di voto anche precedenti e nonostante l'opinione fossero all'approccio iniziale molto molto pericolose vediamo la chat che comunque è un buon numero di persone come si è espressa è finito ragazzi 3 2 1 via il sondaggio diceva quale saga è migliore a livello narrativo con 498 voti perde la trilogia di Jurassic World quindi la percentuale per favore il 42% delle persone hanno votato a favore di Jurassic World mentre il 58% delle persone hanno votato a favore di Jurassic Park porca miseria ma questo non vuol dire niente perché devo decidere io quindi ma vuol dire che comunque se ne può parlare quanto meno sì sì certo che se ne può parlare ma infatti poi se trovi persone come Igor che comunque argomenta in maniera decente quello che vogliono dire funziona ti ringrazio bravo ma non è che siccome stasera c'è questi occhialetti ragazzi scusate sulla nostra chat telegram qualcuno ha mandato un commento che però è senza nome prossima trilogia Jurassic Excel Jurassic World ma perché è difficile da scrivere non ho capito no no Jurassic World ah oddio non lo capito scusate adesso l'ho capito fa molto ridere vabbè ma detto questo devo decidere io decidi adesso voi siete stati belli là che avete parlato siete qua della sopra e sotto quello che io penso rispetto a Jurassic World cioè i nuovi due film che poi saranno tre che io in realtà Jurassic Office è che cioè io sinceramente io spero spero tanto che il terzo riesca a creare perché nel primo e nel secondo non ci sono riusciti che nel terzo riescano a creare quello che Igor dice perché sarebbe molto bello se questo accadesse perché fino adesso quello che hanno fatto è stato veramente mettere insieme una serie di cacate soprattutto nel secondo ragazzi con la storia dell'asta dei dinosauri modificati con le persone che le comprano i russi che arrivano in un secondo cioè dalla rucosia all'improvviso quindi purtroppo io non ce io non ce la faccio perché questa roba che Igor fino adesso in questi due film questa roba che Igor ci ha raccontato io proprio non l'ho vista quindi devo far vincere anche in questo caso l'accusa e Jurassic World non sono migliori narrativamente rispetto al primo nel primo ragazzi ci sta veramente tanta roba il primo basta da solo ha già detto tutto lui non servono nessuno dei film successivi secondo me anche un po' involucariamente il primo è stato un capolavoro secondo me non doveva essere un capolavoro nessuno ci pensava che poteva essere un capolavoro se ti leggi il libro è proprio una roba pazzesca no va bene però io poi parlo quando sono andato Marco l'ha detto che ha letto il libro sì l'ha detto otto volte peraltro Marco ma è Michael Crichton o Michael Crichton io ho sempre detto Crichton io ho sempre sentito Crichton perché il finale del libro è completamente dietro ne parliamo dopo ne parliamo dopo quindi Igor mi dispiace cioè non ce l'ha cioè io ci ho sperato è stata un'esperienza veramente bella io ci ho io veramente ci ho provato ho detto in realtà ti posso dire io lascio un pochino il voto aperto perché vediamo cosa succede nel terzo perché se poi nel terzo esatto esatto poi alla fine del terzo ci rivediamo e alla fine se hai detto una cagata ti smerdiamo per un'ora e mezza no però niente quindi ufficialmente vince l'accusa anche stasera queste due opinioni quindi ho fatto la doppietta io stasera puoi fare i sgari sul muro pure te Adriano hai due minuti per andare in pausa che poi c'è il posto esatto opinioni pericolose aspetta quindi aspetta quindi ricordiamo che vuol dire due minuti per andare in pausa che stai quello che vogliamo ricordare è che adesso abbiamo il posto opinioni pericolose quindi restaremo un'altra mezz'oretta Igor intanto lo ringraziamo anche perché è qui perché è abbonato al primo livello e quindi è nel canale telegram quindi grazie anche per questo Igor vi ricordiamo ragazzi che mi raccomando abbonatevi rinnovate l'abbonamento perché il 50% di tutto quello che stiamo facendo su Twitch è grazie a voi è a causa e merito vostro quindi abbonatevi abbonatevi e abbonatevi Marco ho percepito la Evinflex che stava uscendo da dietro di te e poi e vabbè ragazzi a un certo punto bisogna farlo e ragazzi devo andare a fischare salutiamo Igor e ci vediamo tra un minuto per il posto pericolose siamo di nuovo qua e continuiamo a parlare e sentiamo Mauro cosa pensava veramente se pensava qualcosa di diverso su Jurassic World stavo semplicemente pensando alla Snyder Cut esatto mo ce la racconti mo ce la racconti Mauro ce lo spieghi cosa c'è vai dai ciao ciao Igor grazie mille grazie Igor grazie a tutti Grazie a tutti.